Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Allora, questo è un video così, che non era stato pensato, ma visto che Roller Champions ha suscitato tutto questo interesse da parte vostra, il video è andato benissimo, l'episodio 0, e tanti mi hanno chiesto, ma il crossplay effettivamente come funziona? Come faccio a invitare il mio amico giocando da PC che invece lui gioca su Playstation o su Xbox? Questa domanda è stata fatta da più persone nei commenti, quindi ho cercato informazioni per provare a darvi una risposta. Partiamo da un principio, ho cercato e in questo articolo, sul sito proprio di Ubisoft, possiamo vedere cosa ci dice direttamente Ubisoft. Allora, Roller Champions supporta il crossplay e permette di fare matchmaking con altri che stanno giocando su piattaforme diverse da te, quindi fate attenzione, fare matchmaking con altre persone che stanno giocando su piattaforme diverse da te, le parole sono importanti, perché vedremo come ci sia una mezza fregatura. Il crossplay è disabilitato per impostazione predefinita, anche se io l'ho trovato abilitato, però di base è disabilitato, loro dicono, e poi viene esplicata quella che è la procedura da seguire per tutte le piattaforme, quindi su Xbox, piuttosto che sulle altre piattaforme, e quindi su Playstation e PC. Ve lo farò vedere probabilmente anche in game, ma comunque è abbastanza semplice, anzi è semplicissimo. Si può disattivare e attivare quando si vuole il crossplay, però c'è questa postilla, che non è da sottovalutare. Tieni presente che quando inviti amici a giocare a Roller Champions insieme, potrai invitare solo amici che giocano sulla tua stessa piattaforma. È chiaro, è veramente chiara questa frase. Quindi, allora, è crossplay effettivamente Roller Champions? Possiamo dire che non è proprio crossplay. Quindi, quando si va in matchmaking, effettivamente, puoi capitare contro o insieme in squadra a persone che giocano su altre piattaforme. Ma di base, quando tu vuoi invitare i tuoi amici, nella tua squadra lo puoi fare soltanto con amici che giocano sulla stessa piattaforma. Quindi, è chiarissimo. Non si sa se in seguito verrà modificata questa cosa, ma per ora è così. Poi, ti dice anche che Roller Champions supporta la progressione incrociata, il che significa che, se tu accedi con lo stesso account su varie piattaforme, col tuo account Ubisoft da PC, da PlayStation, eccetera, lui ti mantiene i progressi, quindi il livello, tutte le skin, le robe estetiche, tra tutte le piattaforme. Questa è la progressione incrociata. Ma il crossplay è una mezza fregatura, come avrete capito, quindi non è proprio completo. Anche se online ci sono delle informazioni che dicono che invece questo crossplay c'è, ma in realtà non c'è, infatti moltissime persone si stanno lamentando. Io l'ho fatto per voi questo video, perché poi io gioco per lo più PCM, quindi pecazzi miei, e quindi, insomma, non mi interessa più di tanto, ma, visto l'interesse, ho deciso di farlo. Guarda ragazzi, in questa ultima parte del video vi faccio vedere, anche se magari molti di voi già l'hanno fatto, però credo che alcuni non lo sapessero, come si fa ad abilitare il crossplay. Allora, passo start, impostazioni, andiamo sulla categoria gioco, e come vedete la prima impostazione è consenti crossplay, sì, no. Quindi, in base a questo, determineremo non tanto se possiamo giocare con i nostri amici su altre piattaforme, che abbiamo visto non si può fare al momento. Più che altro, se facendo il matchmaking, si incontreranno persone che giocano su altre piattaforme o meno. Quindi, mi dispiace non essere d'aiuto a chi voleva giocare con gli amici su altre piattaforme, però purtroppo questa funzionalità al momento non c'è, ed è una grossa limitazione per un titolo, comunque game as a service, e a lungo termine come Roller Champions dovrebbe essere nei piani di Ubisoft. Vedremo, secondo me verrà implementata qualcosa, non credo che resterà così. Fatemi sapere in un commento se questo video vi è stato utile, quantomeno per mettervi il cuore in pace. Se lo giocherete comunque per conto vostro, anche senza i vostri amici, o aspetterete che venga incluso il vero crossplay all'interno del titolo. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se il video vi è stato utile e vi è piaciuto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!